Buongiorno, cominciamo oggi una serie di brevi interviste in vista delle elezioni comunali in Ticino. Lo facciamo con Andrea Pilotti, che è responsabile della ricerca all'Osservatorio della Vita Politica Regionale. Buongiorno. Buongiorno a lei. Bene, quattro interviste che proporremo in diverse giornate e che affrontano temi un po' diversificati. Il primo tema è quello di un Ticino elettorale nel contesto naturalmente anche elvetico, anche svizzero. Qual è nel confronto con il resto della Svizzera l'elemento che rappresenta un caso un po' particolare, un po' speciale del Ticino? Si pensa sempre alla partecipazione al voto, all'affluenza molto alta. È ancora così. Sicuramente il Ticino ancora oggi si contraddistingue per un tasso di partecipazione elettorale, per le elezioni comunali e cantonali che è tra i più alti, spesso anche il più alto in un confronto intercantonale. Basta di considerare che ancora negli anni 2000-2010 abbiamo un tasso che per le elezioni del Parlamento cantonale spesso è comunque vicino al 60%, se non superiore al 60%. Quando invece la media nazionale a livello svizzero è poco sopra il 40%, abbiamo anche addirittura dei cantoni dove si fatica, e questo da oltre vent'anni, a raggiungere anche il 35% di partecipazione elettorale. Quindi rimane questa peculiarità importante, perché la partecipazione è per sempre un elemento importante per la democrazia, ma storicamente dove affonda le sue radici questa peculiarità? Dice bene, vi è una ragione storica. Il cantone Ticino anche da questo punto di vista si contraddistingue per una socializzazione politica, quindi un'intensità anche del dibattito politico molto più importante, molto più significativa rispetto a diverse altre realtà svizzere. Questo è anche riconducibile al ruolo dei partiti cinesi e ricordiamolo anche comunque al ruolo storico della stampa politica, oltre alla presenza anche di, sino a pochi anni fa, di tre quotidiani, oltre a quotidiani di partito sino ai primi anni 90. Questi sono gli elementi che hanno contribuito anche a animare il dibattito politico. Certo, diciamo un quadro un po' tocentesco che lascia ancora dei residui, mi sembra. Senta, ma in termini invece più legati all'attualità politica, come spiegare ancora una volta questa tenuta della partecipazione elettorale? Credo che sia anche riconducibile ad alcune peculiarità del tessuto socio-economico ticinese. Abbiamo visto in alcune realtà urbane, svizzere, una profonda trasformazione, non solo del tessuto socio-economico, ma anche della popolazione residente. Una mobilità, una popolazione molto più mobile, che ritroviamo anche in Ticino, ma con intensità molto più basse. Quindi abbiamo, ad esempio, nella realtà come quella del cantonvo dove vivo, una presenza anche di popolazione che non è nata, non è cresciuta nella città, nei comuni in cui vive. Questa quota invece è molto più importante nel canton ticino, e questo spiega anche un maggior coinvolgimento, forse, a livello comunale, della politica comunale, della politica cantonale. Ecco, abbiamo parlato degli aspetti positivi della partecipazione, mi chiedo se vi sia eventualmente qualche elemento anche più problematico, penso, non so, a rapporti più stretti interpersonali nei vari comuni, oppure la ricerca un po' più esasperata del profilo identitario di un comune. Dal mio punto di vista non parlerei necessariamente di problemi. È vero che questo interesse forte per la politica anche a livello comunale, forse presenta anche degli eccessi che ritroviamo meno in altre realtà svizzere. Grazie Andrea Pilotti per questo primo appuntamento. Come abbiamo detto, continueremo nei prossimi giorni sempre in vista delle elezioni comunali. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie a voi.